Un'ottima San Cataldese è stata capace di uscire indenne dal salotto della più quotata Vibonese. Il testacoda del girone I di Seredisi è concluso con 1-0-0, che certamente rende felice il sudalizio Verdamaranto arrivato in terra calabra con il pronostico avverso. La partita, fortemente condizionata dal forte vento, ha visto un primo tempo in cui le due formazioni non sono state capaci di creare pericoli per le rispettive difese. La stessa Vibonese, nonostante il vento a favore, non ha mai impensierito il portiere Verdamaranto. Nella ripresa è cambiata la trama con l'undici rosso-blu, che ha tentato in più circostanze di creare patemi alla formazione Verdamaranto, che è riuscita a esorcizzare pericoli maggiori grazie a una difesa granitica e ordinata. Neanche l'espulsione di Lonigro, arrivata al minuto 35 della ripresa, ha scalfito la linea Maginò ospite. Complice anche una Vibonese non ingiornata opaca alla prestazione di Baldan e compagni, la partita è scivolata via fino al triplice fischio con il risultato iniziale dello 0-0, che non è cambiato. Nel finale, la San Cataldese è andata vicino al clamoroso Blitz, con il colpo di testa di Parisi, che a sette minuti dal termine ha esaltato la vena miracolosa di Del Bello, provvidenziale nel deviare la palla indirizzata a spegnersi sotto l'incrocio dei pali. Un pareggio sostanzialmente equo, istantaneo di quanto mostrato dalle due formazioni, durante l'arco della partita. Per la San Cataldese è un prezioso punto in ottica salvezza, considerando la sconfitta del Locri nel campo dell'Akragas e il turno di riposo del Portici. Questi risultati del trentesimo turno del girone I di Serie D. Castrovillari 9 Giavirtus 1-1, Gioiesse San Luca 2-1, Vibonese San Cataldese 0-0, Akragas Locri 3-1, Licata Siracusa 0-5, Ragusa e Città di Gela 2-0, Real Casalnovo Canicati 1-1, Trapani Fenicia Maranto Reggio 3-1. Il Trapani in cima alla classifica 75 punti, seguito da Siracusa 64, Vibonese 60, Fenicia Maranto Reggio 46, Città di Sant'Agata Real Casalnovo 43, Ragusa Calcio Città di Acireale 40 punti, Nuoveggia Virtus, Akragas, Canicati 35, Licata Calcio 34, San Cataldese 30, Portici e Locri 24 punti, San Luca 22, Castrovillari 13, chiude Fanalino di Coda a 7 punti, Raggioiese.